E' giunta al termine la seconda edizione del premio Monbaroccio Sarano, luci nel buio della Shoah. Il concorso nazionale promosso dal comune in collaborazione con numerosi enti locali e stranieri è legato alla famiglia ebrea salvata dai monbaroccesi nel 1944. La giuria presieduta dal sindaco Emanuele Petrucci ha dovuto esaminare ben 160 elaborati, il doppio rispetto al 2019 e nei giorni scorsi sono stati resi noti i vincitori. Un grande successo che premia i ragazzi in particolari periodi come questi dove ci tenevamo a coinvolgere le scuole, ci tenevamo a far sì che i ragazzi arrivassero ad avere una premiazione a fronte appunto del lockdown che ha causato tutti quelli che sono stati i disagi scolastici. Ci è servito per portare un sorriso, ci è servito per portare un sorriso ai ragazzi, ai loro insegnanti, ai loro dirigenti scolastiche che ringrazio perché elaborati da tutta Italia, la tutta Italia per tutte le classi dalla prima, la quarta, la quinta elementare, la prima, seconda e terza media, quindi un bellissimo risultato che ha coinvolto tutte le scuole d'Italia. Diversi sono gli istituti della provincia di Pesero Urbino saliti sul podio per le varie sezioni in gara, il monte premi complessivo è di 1500 euro oltre a diversi buoni per acquistare libri. Bellissimo risultato che non ci aspettavamo ma non era una questione di parte, veramente bellissimi elaborati che hanno portato e ci tengo a citarli alla scuola primaria Elio Tonelli di Catabrighe che ha vinto il primo premio per quanto riguarda il percorso letterario, ha vinto il liceo linguistico Mamiani di Pesero con la prima B, per quanto riguarda invece la sezione multimediale, l'istituto comprensivo Gandiglio di Fano e ci tenevamo quest'anno a dare anche un premio particolare alla scuola Corridoni che ha fatto un bellissimo lavoro per quanto riguarda il connubio delle persone affette da siccità al tutto materiale reciclabile. La cerimonia di premiazione che era prevista per fine maggio nella chiesa del Beato Sante di Monbaroccio verrà riprogrammata per il mese di ottobre, intanto il primo cittadino è al lavoro per realizzare un museo della memoria. Prima della fine dell'anno scolastico ci siamo posti questo obiettivo, creare a Monbaroccio un primo museo multimediale dove raccogliere tutti gli elaborati di tutta Italia, di tutte le scuole che da oggi in avanti e anche negli anni successivi potranno partecipare a questo premio dedicato a luci nel buio in modo tale che si ricordino coloro che hanno portato quella luce in periodi di difficoltà. Allora come oggi. Pertanto l'obiettivo che ci siamo posti è realizzare dentro Palazzo del Monte un museo multimediale e da oggi a qualche giorno partirà la pagina di crowdfunding dedicata all'ottenimento delle risorse che ci serviranno per quell'obiettivo.